Buongiorno a tutti e bentornati a questa puntata di Oragione Avvocato. E noi dobbiamo parlare, non dobbiamo tacere. Non dobbiamo tacere, come dice la canzone. La scorsa puntata ha avuto un discreto successo. Sì, abbiamo un po' l'introduzione della... D'altro canto è così che si cominciano gli studi, si vanno a cercare gli articoli, un po' di giurisprudenza. Certo, condensare in pochi minuti, però vi abbiamo dato l'impressione, un'idea di come... Poi devo dire che in questa settimana sono arrivate già diverse mail con qualche domanda che poi riproporremo, questa nuova rubrica di risposta alle mail. È stata un'ottima idea. Devo dire che comunque, sì, le mail arrivano. Ma oggi di che cosa parliamo? Sì, ritorniamo al consueto. E poi il pacchetto di... vedremo la prossima. Vedremo di... allora. Oggi volevo parlare dell'acquisto di un'ottovettura usata. È già capitato di parlare. Costa meno, di una nuova. Costa meno. La domanda è questa. Abbiamo le stesse tutele? Punto interrogativo. È lì, bisogna fare un distinguo. Lei invece... No, guardate. Cari ascoltatori. Ah, questo libro è bello, bello. Il latino in tribunale. Sapete? I vecchi, cari, buoni, brocardi. Cioè, le espressioni latine che hanno un rilievo magari anche odierno, anche attuale, codicistico. E che piacciono tanto ai nostri ascoltatori. Come le sue... quando lei fa le storie antiche, il diritto antico. Quando racconto storie. Vabbè, ok. Stiamo scherzando, eh? Infatti. Allora, vediamo un po'. Perché se io compro un'auto usata, che mi fanno? Allora, un'auto usata dipende da dove la compra. Se lei compra l'auto usata in concessionaria, ebbè, allora in questo caso ha tutte le tutele, no? Che ha quando acquista un'auto nuova. Un contatto di compravendita dell'autovettura. Certo, un'auto nuova. E le stesse tutele. Anche in questo caso ha 24 mesi, come dire, come garanzia di legge, no? Ecco, in caso di auto usata la garanzia può essere ridotta a 12, ma l'accordo è patuito tra le parti. Normalmente con una riduzione del prezzo. Certo. Cioè, invece dei 24 mesi compro un'auto che è un po' datata, il concessionario mi dice, senti, te la vendo a un prezzo pile, come diremmo noi. E ti riduco però la garanzia a 12 mesi. Cioè. Benissimo. Cosa copre questa garanzia? Come funziona? Allora, intanto c'è da dire, come avevamo già trattato dell'acquisto di autovetture nuove, per i primi sei mesi dell'acquisto c'è addirittura un'inversione dell'honor della prova. Cioè, in buona sostanza, se io compro un'autovettura usata e riscontro un vizio, un vizio che non deve essere, ricordiamoci che per l'autovettura usata la garanzia non copre, come dire, i vizi dovuti a usura ordinaria, ad esempio, non so, le gomme, la batteria, quello è usata, per cui non copre quello, copre vizi strutturali di altre entità. Ecco, diciamo che se io, una volta che compro questa autovettura, riscontro un vizio nei primi sei mesi dell'acquisto, c'è una presunzione che questo vizio è preesistente all'acquisto, per cui risponde il venditore, il concessionario, e qui stiamo sempre parlando di concessionario. Per cui inversione dell'onore della prova. Il venditore che deve dire, no, beh, guarda, caro acquirente, se è stato tu che hai fatto un uso improprio dell'autovettura, hai pregiudicato questo componente del... va bene. Sicuramente lo dirà. Sicuramente lo dirà, ma se il vizio è denunciato nei primi sei mesi, a questo punto è difficile per lui provarlo. Dirlo lo può dire, provarlo è un'altra cosa. Ben sappiamo. State attenti che la potenza delle parole a volte convince di cose che poi magari non sono esattamente così. Quindi se anche lo dice, non lo prova. Non spettiamoci, bisogna vedere. Ecco. Diverso è comprare l'autovettura da un parente, da un amico, da un privato in generale. In questo caso l'acquirente non può pretendere le garanzie previste dalla legge, perché lo sta acquistando da un privato. Per cui il privato non ha l'obbligo di rilasciare una garanzia. La può fare, possono patuire per iscritto qualcosa, ma non c'è quest'obbligo che segue la vendita, che grava proprio ex legge. Cosa succede? Che allora uno si può chiedere, ma allora il privato mi può buggerare, mi può tirar dietro... Con maggiore... No, non è proprio così. Perché interviene l'articolo 1490 del Codice Civile, che statuisce infatti, nell'ambito della vendita, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata. Inidonea all'uso, deve essere un po' pesante. Oppure ne diminuiscano in modo apprezzabile, anche qui, il valore. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che anche il privato è tenuto, ad esempio, per il dovere di buona fede precontrattuale, a illustrare all'acquirente quelli che sono i vizi della macchina che lui sta vendendo. Non può nasconderli... Anche perché l'acquirente, voglio dire, può sempre far valere questi vizi qui, che gli sono stati nascosti. Per cui converrebbe... Vizio occulto? Occulto, esattamente occulto. Per cui converrebbe all'atto della vendita, anche tra privati, magari predisporre un contratto scritto, dove il venditore già illustra... Guarda, ho illustrato all'acquirente che ci sono queste particolarità, ci sono queste cose... Per cui, poi interviene, recentemente intervenuta anche una sentenza di Cassazione, anzi per la verità un'ordinanza, la 33.926 del 17 novembre 22. Certo, perché lei usa solo sentenze del 22. Senti solo dell'ultimo mese, che fa un discorso molto intelligente, ovviamente, essendo la Cassazione, un discorso molto intelligente e dice, beh, però, insomma, se io compro un'autovettura, da un privato o da un concessionario, un'autovettura usata, la quale presenta dei vizi, se il venditore mi illustra questi vizi, mi dice, guarda che sono... sì, ma io non sono un tecnico. Cioè, come faccio... cioè, deve essere questo vizio illustrato anche e percepito da un acquirente non tecnico. Per cui la Cassazione, faccio un esempio, in questo caso, gli ermellini hanno trattato di una vicenda che, appunto, riguardava il difetto del catalizzatore della sonda lambda. Capisce che... se uno mi scrive, ma ci sono difetti della sonda lambda? Boh, io acquirente profano... Sembra qualcosa tipo Sputnik. Infatti, vabbè, ma la sonda posso farne anche a meno? No, è un vizio che doveva essermi illustrato dal venditore o privato o professionista, cioè una concessionaria. e questo rientra proprio nelle regole, nell'obbligo della correttezza e dell'informativa precontrattuale. Per cui, insomma, un po' di tutele ci sono. Ci sono. Bisogna farle valere e sperare che... Anche col privato. Anche col privato. Meno che col concessionario. Però, come sempre, vedete che quello che vi diciamo è comunque l'importanza di uno scritto. La telefonata, me l'ha detto a voce, eccetera. E' difficile, poi... Se uno dice, io ti ho illustrato che mi mancavano le quattro ruote, faccio vedere... No, vabbè, non è occulto questo. Però, insomma, va scritto. Ogni vizio... Le quattro ruote e proprio quelle... Le quattro ruote. Non il periodico, il noto periodico. No, no, le quattro ruote. Va bene. Va bene. Grazie all'avvocato Bastetti che comunque ci tutela. Io ho scelto, adesso vediamo se ci stanno entrambi, due brocardi che, peraltro, più che giuridici, sono un po', diciamo così, filosofico riflessivi. Però a me piacciono tanto questi. Latius est impunitum relinquifacinus nocentis quam innocentem dannari. Insomma, è il vecchio concetto. Meglio lasciare impunito un colpevole che condannare un innocente. Io qui non mi soffermo molto, ciascuno può avere le sue, come dire, considerazioni, valutazioni, ma il problema è quando è definitivamente colpevole un soggetto e quando è definitivamente innocente, già si pongono degli errori giudiziari, magari non troppo gravi, però nel momento in cui c'è una sentenza di secondo grado che ribalta, per esempio, una sentenza di colpevolezza di primo grado. E quindi è colpevole in primo grado, è innocente. E poi c'è la Cassazione, dove si possono anche portare vizi, diciamo, di procedura. Quindi, insomma, a me viene in mente, per spiegare questo brocardo, questa situazione, cioè che è un po' quella a volte filmica, no? Che dopo 30 anni, oppure magari qualche volta si legge anche sui giornali, Tizio confessa l'omicidio per cui invece Caio è stato condannato. Ecco, questo forse è un errore che potremmo chiamare definitivo, diremmo di sì, se non c'è nessun altro che... Ma è meglio lasciare impunito un colpevole che condannare un innocente? Ecco, questa è una riflessione che io lascio a tutti voi. È una bella riflessione. L'altro, velocissimamente, sì, ci stiamo. Ah, beh, questo è ancora più. Leges ab omnibus intelligi debent. Le leggi devono essere comprese da tutti. Ah, beh, bello. Bello. Attualissimo. Attualissimo. Direi. Adesso con le riforme che ci stanno aspettando. Il problema è che, secondo me, intanto il mito delle leggi poche e chiare, di cui credo parlasse Voltaire, è difficilmente realizzabile in ogni tempo, specialmente nel nostro. Anche perché, anche blasonati autori, per esempio Galgano, in un suo libro, Francesco Galgano, diceva sì, il legislatore a volte fa una legge, che poi passano le leggi, il Parlamento viene anche modificato, dopodiché arriva un'altra legge e dice sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. E qui bisogna vedere cosa è incompatibile. Cosa. E qui va ovviamente poi interpretato da parte sia dell'avvocato che anche ovviamente del giudice. ci sono poi, questa è una convinzione che esiste, ed è ovviamente vera, con qualche eccezione, non c'è mai nulla di assoluto. Cioè, la legge, l'ignoranza della legge, l'ignoranza della legge penale, non scusa. Però, in verità, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale parecchi anni fa che ha considerato una norma tributaria di valore penale, che prevedeva delle condanne appunto penali, talmente incomprensibile che in quel caso l'ignoranza era scusabile proprio perché neanche un tecnico riusciva a percepire il contenuto. Quindi, il linguaggio delle leggi, soprattutto quelle che vengono sovrapposte a leggi precedenti e magari anche in un momento di, così, necessità pratica, è davvero difficile che possa realizzare che le leggi siano capite da tutti. Ci vorrebbe un uovo giustiniano che prese il troppo il vano delle, no, si ricorda Dante, prese il troppo il vano delle leggi e fece il codice giustiniano. Allora, giustiniano forse adesso non lo troviamo più, ma se vogliamo provare a metterci alla prova, dopodiché verremo qui con qualche norma di quelle che magari abbiamo cercato di sistemare. Una riforma di una paginetta del codice. Secondo me è molto difficile e vediamo se riusciamo a usare parole che tutti gli ascoltatori di Oragione Avvocato possano... Tradurre in parole, ma è molto... Ci sono tante sfumature. Tante, come sempre nel diritto e poi ogni caso alla sua storia. Grazie a tutti per l'ascolto. Risposte concrete non è sempre facile darne, risposte, diciamo, uniche, univoche, però questo è una vita. Ma noi tenteremo di dare risposta alle vostre domande che arriveranno via... A Oragione Avvocato, chiocciola, gmail.com Buona giornata a tutti, arrivederci. Arrivederci. A Oragione Avvocato, chiocciola, gmail.com Buona giornata a tutti.